Anche un congresso a Vienna, no? Allora, adesso passo la parola al professor Sini, che dirige questa meravigliosa collana Come pensare, cui usciranno presto altri volumi. Grazie. Ma che cosa dire? Dunque, io credo che possiamo fare una riflessione di qualche minuto insieme nell'ambito di quelle cose che io posso dire, cioè che conosco meglio. Penso che sia quello che diceva Tortora prima, sia la testimonianza che ora è stata portata, molto interessante, perché si dimenticano spesso le vicende storiche. Noi siamo pieni di libri storici, perché la cultura storica regna sovrana, ma il guaio è che i libri storici non dicono mai niente di storico, insomma, che sono molto generici, molto costruiti per vincere cattedre, ma non costruiti per lo più con una reale analisi dei documenti, della vita, della realtà. Lo storiografismo, insomma, è diventato una categoria comune e comoda per ricopiare libri di qualche anno fa e, insomma, fare il riassunto dei libri già scritti anziché andare a cercare qual era la vita reale delle persone. Quindi questa testimonianza sui rapporti che Freud aveva con i suoi pazienti, su come viveva la sua pratica quotidiana e le difficoltà di instaurare un nuovo cammino, tutto questo per lo più viene espulso dalle monumentali storie della psicanalisi, che sono per lo più dei fallimenti. Ecco, dicevo, partendo da queste testimonianze, forse possiamo tentare una riflessione generale, una riflessione più ampia, mossa dalla domanda che cosa ci sta succedendo, insomma, no? Che cosa ci sta succedendo? Ma ci sta succedendo qualche cosa che per alcuni aspetti non è così strano, non è così paradossale, ha delle ragioni precise, naturalmente bisogna avere il coraggio di guardarle. Io, per esempio, proporrei una riflessione su quello che oggi vale ormai più la qualifica professionale e il diritto formale, insomma, nell'esercizio delle proprie funzioni. Siamo di fronte certamente ad una cultura divisa, ad una cultura astratta, ad una cultura fratta, ad una cultura che crede di legittimarsi quanto più si divide, quanto più si rifrange, e naturalmente dietro a questo formalismo della cultura si nascondono molti interessi, interessi di casta e non soltanto interessi di casta. Ma al di là di una polemica così diretta attraverso ambiti che possono essere anche molto miseri, insomma, nella loro realtà umana, c'è indubbiamente un aspetto invece più ampio, più profondo, più ideale, se si vuole usare ancora questa parola, ed è quella che io credo sia una battaglia fondamentale che si sta esercitando a tutti i livelli della società civile, della società politica, una battaglia tra convenzionalismo, chiamiamolo così, e anticonvenzionalismo. Non voglio compromettermi con un altro termine, anche se anticonvenzionalismo non mi piace molto, perché ciò che è anti prende sempre dall'altro le sue misure, come si suol dire, no? Chi sono i convenzionalisti? Beh, uno lo ha nominato, Tortora, in maniera ripetuta, e il mio cuore era tutto contento, ma non perché io ce l'abbia con lui, ma perché per quello che rappresenta, insomma, per quello che rappresenta in generale, che è proprio Norberto Bobbio, insomma, no? Cioè questa cultura della convenzione, questa cultura del contratto, questa cultura che crede, giocando sulle forme e con le forme, di risolvere i problemi della società contemporanea. E questa non è altro che la continuazione e la conclusione di un processo che ai miei occhi non è cominciato solo con l'età moderna, è cominciato molto molto indietro nel tempo, ma certo con l'età moderna si è via più approfondito. Un processo che ha indubbiamente spostato l'attenzione sull'informazione piuttosto che sulla formazione. Voglio dire che quando noi passiamo dalla ritualità pre-filosofica in Grecia, dalla ritualità pre-platonica, potremmo dire, pre-sofistica, alle scuole platonico-sofistiche, il grande passo per l'Occidente è compiuto, il grande passo degli specialisti. Ed è una finzione quella della filosofia di voler tenere insieme gli specialisti. Perché da un punto di vista così astratto, all'aviano, si potrebbe credere che la filosofia abbia sempre combattuto contro lo specialismo, ponendo un'istanza di unità degli specialismi. E in effetti la filosofia ha fatto questo. Ma ha fatto questo a partire dalla frattura, a partire dalla ruttura, cioè ponendo un'istanza di universalità nella particolarità, cioè ponendo un'istanza di unificazione dialettica una volta data la partizione. Quindi ci sono medici, avvocati, eccetera, 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 e c'è il filosofo come loro ragion d'essere. Ma questa è la logica dell'Occidente da Platone sino a Hegel, da Platone sino a Rawls, da Platone sino ai giorni nostri, la quale produce inevitabilmente una insensatezza, sia di tutte le parti, sia un po' alla volta di quella unità cosiddetta universale che le dovrebbe tenere unite o alle quali dovrebbe conferire senso. E allora noi viviamo oggi questa sorta di svuotamento di tutte le funzioni, di svuotamento del sapere. E quando parlo del sapere non penso all'università, all'accademia o ad altre cose. Il sapere è ciò che l'uomo sa fare. Quindi il sapere è l'uomo nella sua totalità, svuotamento delle funzioni pratico-attive dell'uomo. A questo come si risponde? Beh, si risponde secondo me anzitutto combattendo lo specialismo ottuso ogni volta che si presenta, combattendo i codici di comportamento, le norme formali, i giochi variamente formalizzati, cioè tutta quella democrazia delle parole e però tutto sommato dietro le parole intolleranza di fatto, che pure costituisce ancora la voce dominante, la voce dominante che governa quell'ignobile mezza cultura, quell'ignobile moralismo, moralismo fin troppo facile, che sta su tutte le pagine dei giornali, che ispira tutti gli articoli dei nostri brillanti giornalisti o non soltanto giornalisti, insomma, naturalmente. Innanzitutto, certo, c'è una battaglia da combattere contro questa falsa democrazia, contro questa immagine falsa della democrazia o forse contro alcune componenti originarie della democrazia che vanno corrette. Non è che ho paura che dopo uno dice allora tu sei antidemocratico, allora sei fascista, io non sono sicuramente fascista, il fascismo è una delle cose più orribili che siano capitate nel nostro tempo, anche lui ha una sua logica connessione con certe situazioni che prima descrivevo, ma non vedo perché non si debbano francamente riconoscere alcuni limiti di quella che noi chiamiamo oggi organizzazione democratica, sia del consenso, sia della legittimità, eccetera, eccetera. Non vedo perché non si debba correggere insomma qualche cosa che non funziona in qualche cosa che potrebbe funzionare meglio. Ma il secondo punto molto delicato, qui veramente molto delicato, d'accordo, combattere contro ogni illusione formalistica o contro ogni teoria del formalismo o giuridico o professionale dovunque lo si incontri più o meno in buona fede, sì, ma è che cosa proporre al posto di questo formalismo. Ecco, qui credo si corrono dei rischi, si corrono dei rischi perché naturalmente sarebbe molto sbagliato pensare che quando si fa un discorso sul rapporto formazione-informazione, cultura sostanziale, non cultura formale, libertà sostanziale, non libertà formale, quello che si vuole sia un tornare indietro. Nessuno qui vuole tornare ai riti dionisiaci, insomma, nessuno qui vuole una visione arcaico, unitaria, dove le cose ancora non si erano divise. Non è questo evidentemente il punto, anche se rischia in alcuni atteggiamenti ribellistici della cultura contemporanea di diventare questo il punto. E allora per me, per esempio, per altri che più o meno vanno nella stessa direzione diventa molto essenziale distinguersi da queste retromarce, da queste visioni arcaicizzanti che non portano da nessuna parte. Io credo che ciò che si tratta di fare, in questo senso sempre la psicanalisi ha avuto nei miei confronti una grande attrazione, quello che si tratta di fare è di recuperare una sorta di coraggio dell'esperienza, cioè coraggio di guardare l'esperienza, cioè di guardarla senza le categorie che la tradizione ha consolidato, codificato, di guardarla insomma dentro, attraverso e al di là di queste categorie. Perché dico la psicanalisi quindi come istanza culturale che va molto al di là del suo ambito disciplinare, tanto che una difesa della psicanalisi come disciplina a sé è una difesa stupida, è una difesa che non ha futuro, è una difesa che depotenzia la psicanalisi, ne fa un'evirazione tremenda. La forza della psicanalisi sta proprio non nel dirsi io sono una scienza, datemi il cartellino di scientificità e mettetemi nel mio istituto privato accanto agli altri istituti. No, non è questa la forza della psicanalisi. La forza della psicanalisi è stata innanzitutto in un coraggio di guardare un'esperienza che non era più guardata da secoli e di trar fuori da questa visione dell'esperienza infatti tanti fantasmi di un passato rimosso, tante realtà che una categorizzazione intellettualistica che un lapsus erotico di tutto l'Occidente aveva nominato altrimenti. E allora la psicanalisi non in quanto professione o non soltanto in questo senso qui la cosa mi interessa meno ovviamente ma la psicanalisi in quanto essa ha avuto il coraggio di mettere sotto gli occhi di tutti gli uomini suscitando come comprensibili le loro fortissime reazioni e difese sotto gli occhi di tutti gli uomini e sotto gli occhi di tutti i chierici di cui parlava appunto prima molto bene questi chierici che hanno tradito tra l'altro siamo poco al di là del centenario di benda questi chierici che hanno tradito perché sono diventati dei professionisti appunto degli specialisti mettere sotto i loro occhi l'esperienza vale a dire l'incontro reale con le cose del mondo con il mondo che non può essere ridotto ad una teoria del mondo o a una dottrina o a una ideologia questa lotta contro l'ideologia e ogni ideologismo mi pare sia stata una delle componenti durevoli più importanti dell'esperienza che io ho fatto qui con voi tutte le volte che ci siamo visti ed è in nome di questa che io ho come dire molta fiducia in quello che si fa qui e anche nella mancanza di ordine che è una delle critiche ricorrenti dall'esterno ah ma non c'è ordine ah ma gli interventi sono tutti slegati uno dall'altro beh forse è meglio un po' di disordine che non un ordine costituito sulla base di quell'intellettualismo che dicevo prima è la morte dell'esperienza cioè la fine di ogni incontro con la verità la fine di ogni incontro con il lapsus del nome l'essere catturati dal nome l'essere inviati a dire altro a dire l'altro già ma bisogna avere il coraggio poi di sopportarlo questo altro di vederlo di guardarlo e in nome di ciò di far sì che le forme del sapere non siano più manovrate da un'intellettualistica volontà formale la quale molto spesso diventa poi uno instrumentum regni come tutti sappiamo diventa lo strumento in base al quale forze reali poi molto reali umane troppo umane avrebbe detto Nietzsche approfittano del formalismo esterno per esercitare un dominio contro l'esperienza di ognuno di noi contro l'esperienza di verità di ognuno di noi vi ringrazio l'apsus dell'erotismo c'era ancora tanto tempo non mi pareva il caso avevamo tanto tempo allora mi aspettavo l'apsus dell'erotismo allora ringrazio molto il professor Sini e chiaramente ci parlerà in una prossima manderà un testo dal titolo l'apsus dell'erotismo adesso è stato straordinariamente breve io pensavo che arrivasse almeno fino a luna e proprio per posso arrivare lo so lo so ho pensato ci fossero ma il caltero no no c'era solo no c'è c'è ma c'era lei fino a luna va bene va bene grazie allora Maria tu vuole intervenire adesso o domani no? domani e invece l'otana domani pure adesso quanto tempo perfetto allora con la traduzione o senza traduzione? senza traduzione senza traduzione scusatemi di parlare italiano lui parla molte lingue il russo il polacco l'inglese il tedesco francese spagnolo perché lui dice che mi sono antenati chissà quanto tempo fa come tutti quelli che erano gli ebrei che erano in Germania e venivano dalla Spagna ha una moglie che parla di lingua spagnola e quindi adesso sta imparando l'italiano adesso non so però può parlare anche in francese in francese no devo insistire che sei italiano anche in spagnolo va bene anche in spagnolo tutti che abbiamo lo spagnolo scusatemi tutte le sbaglie ma la ragione di parlare italiano è perché sono in Italia e considero tutto il mondo qui come i miei nuovi amici adesso la conferenza si chiama il primo foro internazionale e io sono un fenomeno internazionale perché sono nato in Polonia dei parenti ebrei e parlo polacco russo aleman francese spagnolo ebreo antiguo yiddish e ora italiano se mi mescla un poco il spagnolo con l'italiano l'allemane è un dialetto di yiddish stamattina ho stato parlando con il signore Maximo e su moglie e mi ho trasferito in Russia qual è la dominazione fra los profetas della Bibbia Gesù Cristo Socrates Galileo Mesmer Freud Oscar Wilde e Verdilione è questione della parola della parola libre e dall'altro lato qual è la denominazione dei imperatori romani della chiesa cattolica militante della inquisizione dello dictatore de Goebbels de Stalin e molti altri anche questo è la parola ma la differenza è tra la parola divina e la parola diabolica per questa ragione vorrebbe leggere alcune parole di San Giovanni in principio era il verbo la parola e il verbo era presso Dio e il verbo era Dio e il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi perché Dio è amore questi sono i principi di base e questo può andare in due direzioni di Dio o di diavolo adesso qual è il fenomeno della parola con quale altre cose faccio connessione con questi con filia con amore con filosofia con il pensiero con potestas la potenza con pecunia con polizia e con plagio ma plagio è questione di influenza e la influenza si face per medio della parola è molto semplice dunque perché si è fatto tanto rumor qui in Italia contro la parola e perché si è incriminato a Verdilione perché non era un processo civile sino un processo criminale non lo capisco venendo da un paese di libertà negli Stati Uniti è impossibile tal cosa di fare un processo criminale quando si tratta di una questione di parola e di opinione mi titolo era prima lo direi in ingles dogmas deities and dissidents o die dogma e dissidents o die dogma e dissidents non lo capisco non lo capisco ma qual è la ragione di questo fenomeno di che la parola sia di dios o del diavolo perché la nominazione già è un certo una certa distorsione della realtà perché quando si tratta la nominazione la denominazione ha connessione con dominazione e con abominazione parlando filosoficamente il problema è entre esperienza e espressione coscienza e concetto e la domanda è che occorre entre coscienza e concetto che occorre entre esperienza e espressione perché la espressione causa repressione e nel bambino preverbale non esiste il conflitto di espressione e esperienza perché sono uno sono uniti ma l'adulto ha il problema del pensiero concettuale e il pensiero concettuale è il luogo dove il Dio si trasforma in Diablo e di questo modo io ho comprendito il fenomeno di Virgilioni in Italia che era la diabolezza che è il nuovo Diablo ora le parlai un poco di di altro fenomeno primo io tengo la istruzione di medico di psichiatra di psicanalista però soprattutto mi considero come umanista la figura di Franz Anton Mesmer è molto importante in questa connessione perché Franz Anton Mesmer fu il primer Freud Mesmer era tambien austriaco era tambien un psicoterapeuta anche egli ganò molti soldi e anche egli ha avuto una associazione una che ha invertito molto dinario investito ora Franz Anton Mesmer praticava una medicina alternativa en Viena e come a Freud poi se produjo una oposizione molto grande contra Mesmer come un terapeuta di sua propria maniera dunque existia lì un interesse politico molto potente di expulsare a Mesmer di Viena e ahi c'era immesso la reina Maria Teresia con una pianista che l'ha curato antes poi quando tornò a Parigi fu altro scandalo con Maria Antoniet con Caliostro che lo hanno accusato oggi a di molte cose che non erano vere e poi lo stesso con Freud la storia si ripite molte volte la opinione mia e la posizione mia nella psicanalisi e con quello termine nell'anno 82 ho scoperto l'amore e la psicanalisi e nell'anno 84 ho fatto un discorso sopra l'amore in Tokyo se puoi leggere in uno dei libri della casa Belle e il titolo qui era la realtà d'amore e l'amore della realtà dunque che è la realtà torniamo un'altra volta al problema della coscienza e del concetto che la parola libera ma anche opprime sveglia ma anche occulta e bisogno di comprendere questa significazione conflittuale della parola e ne farla in un dio ma in un strumento di amore di pensiero e di scrivere grazie allora in questo forum ciascuno di coloro che sono intervenuti è chiaro che possono intervenire e partecipare ad altre tavole rotonde anche dopo e pertanto anche l'OTAN e SWELS allora adesso facciamo una pausa veramente raccomando l'estremo punto di attualità perché poi il pomeriggio si fa molto breve dato gli interventi e anche il dipartito che spero che quindi possa cominciare e quindi la pausa è relativamente breve e cioè fino alle 14 grazie a e poi e poi l'intervento molto ampio di Tortora quella lettera che veniva dal San Vittore intorno alla sessualità nel carcere e poi sono stati altri interventi, quello di Peter Swells, quello di Lothan e quello di professor Carlo Sini. Quindi adesso sono vari interventi nel pomeriggio, la procedura è quella comunque di instaurare un dibattito, pertanto questo è il primo giorno, è chiaro che per instaurarlo occorre pure un tempo. E allora, com'è? Allora adesso incominciamo dunque questo pomeriggio. E incomincia Vladimir Maximov, io ringrazio la signora Ludmila Novikova, che siamo conosciuti in occasione della venuta di Nagibin a Milano, che pure abbiamo tradotto. Lei è a Milano ormai da 17 anni, mi pare, 15, una quindicina di anni, quindi è venuta dalla Russia all'inizio degli anni 70. E' stato un incontro molto felice, e quindi adesso la ringrazio molto di tradurre quello che dirà Vladimir Maximov. Maximov è già venuto ad altri congressi, anche a Tokyo, a Parigi, è una tavola rotonda a Parigi, anche per la liberazione di Grussman, come avevamo fatto un'altra a New York con Grigorienko, con Kuznetsov. E' intervenuto pure in questi tre anni costantemente, proprio sia per solidarietà, sia anche per, proprio come testimonianza, e anche per un'analisi della situazione che si sta producendo, purtroppo anche nei paesi dell'Europa occidentale. E' stato promotore poi di un libro, con Zinoviev, con Kuznetsov e con altri, di un libro proprio intorno alla ferra, uscito in gennaio. E' uscito il suo libro in Italia, che è la prima parte del romanzo, diciamo, che trae spunto dall'autobiografia. Questo addio da nessun dove. Adesso c'è il professor Pacini, che sta traducendo il secondo libro. Quindi questa traduzione che noi abbiamo fatto è una traduzione ex novo, perché c'era stata una pessima traduzione prima, e appunto lo stesso Maximov l'aveva segnalata, e quindi abbiamo rifatto la traduzione. E quindi faremo il secondo volume, proprio di questo libro. C'era stata una traduzione prima, non da noi, ma da Rusconi, l'editore Rusconi. Io ho visto libri anche tradotti dal giapponese, in effetti erano tradotti dall'inglese, citavano le edizioni inglese, non so, per alcuni, per Endo, per esempio, presso lo stesso editore. Ma non è un costume, purtroppo, italiano, traduttore dei traduttori. E allora, questo, ringrazio molto per questa opera e per il dibattito, no, che è stato Maximo, per lui è venuto anche ad altri interventi, viene invitato spesso in Italia, e mi pare che quindi sia abbastanza, un po', diciamo, perlomeno situato nel dibattito italiano. Nessuno di noi si abitua invece al costume e quindi neppure lui. Poi ci sono qui altri oratori, che ovviamente man mano presentiamo, ma adesso, quindi, diciamo che un enunciato diceva se si vuole colpire un uomo, diceva all'inizio di questo libro, la colpa si può sempre creare. Appunto diceva stamattina Tortora che sono detenuti in attesa di reato, non in attesa di giudizio, ma in attesa di reato. E lui quindi dice, beh, se si vuole colpire qualcuno, il reato poi si creerà. Si creerà nei paesi totalitari, si crea per analogia, ma purtroppo anche nella provincia Italia o nella provincia Europa, e quindi si crea per lo stesso motivo. Allora, diceva, lì c'è un razzismo che colpisce il colore del pensiero, non solo una volta forse altrove, il colore della pelle, ma e colpisce quindi in fondo anche dunque l'intellettuale. Adesso gli passo la parola e seguo la traduzione consecutiva, consecutiva man mano da parte della signora Людmila. Allora, prego. Quando Verdiglioni mi ha invitato a questo congresso, io assolutamente non sapo di che cosa dovrei parlare qua. Freud non è un personaggio che mi interessa molto. Mi sembra che un personaggio che mi interessa molto più importante, è molto più importante di quello che ha parlato Freud. Ma io so della mia esperienza lavorando con signor Verdiglioni, che i temi che lui mette sui congressi, sui forumi, sono molto interessanti e sono diversi da come si chiamano questi congressi, poi vengono fuori le interessi. Malgrado che io sono stato qua tutta la mattinata senza avere traduzione vicino, ho capito che la tema che sta tocando questo forum è molto interessante. Especialmente perché la terminologia politica, sociologica è internazionale. specialmente la relazione del mio amico Tortora è stata molto interessante per me. Io so tutta questa storia. Ma io so tutta questa storia. Ma io so tutta questa storia. E' una cosa molto impressionante. E questa è la tema che mi interessa moltissimo. E questa è la mia società andare e fare questi processi contro personaggi come il professor Verdiglione, come Tortora, come Streller. Io non credo che questo sia soltanto il problema della giustizia in Italia o ovunque. Io credo che questo, in società, le regime totalitarie che si sentono prima che arrivano realmente al potere. E questo è il problema che mi piacerebbe moltissimo discutere con qualcuno che vorrebbe discutere con me. Se questo tema interesserà qualcuno e qualcuno verrà a continuare, io ritornerò a parlare. Allora, io vorrei pregare la signora Ludmilla, se può stare accanto a Maximoff, in modo che man mano possa tradurre qualcosa, in modo che lui può intervenire successivamente nel dibattito. Allora, sono, mi pare, le tre e mezzo. Allora, adesso, dunque, interviene Bernardo Rilevy. Questa volta, come aveva moltissimi impegni a Parigi, delle cose da sbrigare relative alla casa editrice e alle collane che lui dirige presso Grasset, e poi anche rispetto a un libro che sta preparando, e quindi è una ricerca, è venuto quindi come anche un mese fa a Roma. Questa volta, anche perché ci sono due libri usciti di recenti in Italia, Questione di principio nel mese di prima di luglio e Elogio degli intellettuali da poco. Ci sono stati echi della conferenza stampa fatta a Roma, e poi ci sono varie recensioni che stanno per uscire sui giornali. Fra l'altro arriverà tra poco, mi pare, anche Guarini, quindi lui ne farà uno per un giornale e come altri. Dei libri di Bernardo Rilevy abbiamo molto di volta di parlarne, anche perché di volta in volta li rilanciamo in varie occasioni, come quello che abbiamo rilanciato in primavera, che era l'ideologia francese, in occasione del processo Barbie. C'è, dunque, anche gli altri libri, penso che potremo fare una man mano, una riedizione. E dunque questo libro abbiamo cominciato a discuterlo, ne abbiamo parlato molto in questi mesi, mentre si traduceva e anche prima che fosse tradotto, e è chiaro che ancora abbiamo appena incominciato a parlarne. E forse il libro principale di tutto questo, senza dubbio, di questo autunno, è da settembre a dicembre, e mi pare che questo forum internazionale, che, diciamo, ha cinque giorni, quindi d'ora fino a domenica sera, possa avere questo libro sicuramente come emblema, come punto di riferimento e di dibattito per tutte e cinque le giornate. Anche abbiamo annunciato questa mattina che la questione dello statuto dell'intellettuale è tra le cose principali che si discutono in questi cinque giorni. E in tutto il provincialismo, in tutto il razzismo, c'è di sicuro un anti-intellettualismo che va quindi contro la scrittura, contro l'arte, contro la scienza, contro il pensiero che dà, appunto, contro queste cose l'omertà, ossia lo psicofarmaco, per non pensare, per non fare, per non dire, per non scrivere. Allora, in questo senso dico che le cose che questo libro enuncia, che abbiamo cominciato a discutere, saranno discusse in questi giorni, e molti di voi interverranno proprio su questi temi, e anche sulle cose che sicuramente adesso Bernardo Rilevi propone. Io lo ringrazio molto per essere venuto qui, lo ringrazio per quanto è avvenuto in questi due anni, appunto con il stato tra i pochissimi intellettuali, e a venire al processo e quindi a dare una sua testimonianza. Allora, adesso noi siamo in una fase costruttiva, questo è il primo congresso da tre anni a questa parte, e ci interessa di sicuro ormai l'avvenire, e pertanto nessun legame con i tribunali, che pure comunque in questo Paese esercitano una pressione enorme, accanto ad altri stabilimenti della normalizzazione. Normalizzazione significa anche contro la questione intellettuale, contro l'intellettuale, e scartare la questione intellettuale significa appunto se la morte dell'intellettuale fosse sancita definitivamente, la normalizzazione sarebbe pienamente riuscita. Allora, quindi passo la parola e lo ringrazio ancora a Bernardo Rilevi. Non bisogna che tu mi ringrazzi appunto Armando. Io ero al tribunale. Non eravamo molto numerosi lì al tribunale, ero soprattutto lì con Marek. e mi sembra ovvio essere qui appunto oggi, lors di questo primo colloque, di questa nuova epoca che comincia per te e per le tue attività. Allora, è nel momento di questo primo congresso, di questa nuova attività che comincia per te e per le tue attività. Io ho abbastanza dell'immagine di te come vittima e come martire, perché appunto tu non sei martire e non sei vittima. Il è importante che l'on sache che autour d'Armando Verdiglione, dei scrivani di nationalità differenti si riuniscono per lavorare. C'è per questo che io sono qui e che Marek è qui, penso. È importante che sia noto che scrittori di nazionalità differenti sono venuti qui per lavorare in questa occasione, appunto come me e come Marek Alter. Voilà, allora, lavoriamo un po'. Allora, lavoriamo dunque. Moi, je voudrais vous dire quelques mots de ce malaise dans la culture que l'on sent depuis quelques mois ou quelques années en Europe. Vorrei dirvi dunque di questo disagio nella cultura, come dice Freud, che si sente in Europa in questi anni. Ce malaise, on le sent bien, tous. questo disagio lo sentiamo bene tutti. On le sent en France, on le sent in Italie, on le sent sans doute de la même façon. Ecco, si sente senza dubbio nello stesso modo in Francia e in Italia. Seulement, je crois qu'il y a des interpretations erronées de ce malaise. Soltanto mi pare che ci sia un'interpretazione errone di questo disagio. Certains nous disent, par exemple, che le malaise viendrait d'une confusione sans précédent entre la culture et la sous-culture. Da una confusione senza precedenti tra la cultura e la sottocultura. Entre Bach, Jean-Sébastien Bach e John Travolta. Tra Bach, per esempio, e John Travolta. Entre Jackson Pollock e le graffiti new-yorkais. Tra Pollock, per esempio, e i graffiti di New York. Ils ont apparti raison, bien sûr. Hanno in parte ragione, senza dubbio. Encore que cette confusione n'est pas sans précédent. Benché questa confusione non sia senza precedenti. Dans tutte le epoche della cultura, c'è stato questo combattimento tra la cultura e la sottocultura. C'est peut-être même la définition de la culture. Forse è questa la definizione della cultura. L'intégration, l'absorption d'éléments venus de la sous-culture. Quindi l'integrazione, l'assunzione, l'assorbimento di elementi venuti dalla sottocultura. Ce n'est donc pas specific à la crise actuelle. Quindi non è l'elemento specifico alla crisi attuale. Il y a des gens qui disent que si la culture est en crise, c'est à cause de la télévision. Ci sono coloro che dicono che se la cultura est en crise, ciò est dovuto à la télévision. Que c'est à cause de l'invasion de l'industrie des loisirs. Che dunque est à cause de l'industrie, per esempio, del tempo libero. Et que si la culture va mal, c'est la faute de Berlusconi. Et que si, per esempio, la culture va mal, in Italia, sarebbe colpa, o in Francia, appunto, di Berlusconi. Anche in Francia. Là encore, il y a peut-être un peu de vrai. Forse c'est quelque chose de vrai. Mais le raisonnement de nos téléphobes est un raisonnement étrange. Mais le raisonnement di questi téléphobici est molto erroneo. C'est un peu le raisonnement de ceux qui au XIXe siècle disaient le romanzo Feuilleton va tuer la littérature. Il romanzo Feuilleton va a ucciderà la littérature. Eugène Su va tuer Stendhal et Balzac. Eugène Su ucciderà Stendhal et Balzac. Ce n'est pas ça qui s'est passé. Non è accaduto affatto questo. Eugène Su a vécu. Eugène Su a vissuto. E Stendhal et Balzac ont vécu. E ovviamente anche Stendhal et Balzac. E au contraire l'arrivée d'Eugène Su a eu un effet très intéressant. E invece l'arrivée d'Eugène Su a avuto un effet molto interessante. C'est que le romanzo Feuilleton a rendu la littérature a sa vraie vocation. Il romanzo Feuilleton a riportato la littérature alla sua vera vocation. Le romanzo Feuilleton a libéré le champ pour ce que la littérature avait en propre. dunque il romanzo Feuilleton a liberato il campo proprio per ciò che la littérature aveva di proprio e in proprio. Il y a toute une part de la littérature que le Feuilleton a absorbé et en en liberant la littérature. C'est toute une part de la littérature que le romanzo Feuilleton a assunto, assorbito et quindi a lasciato in questo senso libera la littérature. C'est le même raisonnement qu'on a vu au moment où la photographie est apparue, par exemple. C'est la même chose che si è vista quando la photographia è apparsa. Il y a des gens qui ont dit che la photographia était en train de tuer la peinture. Ci sono coloro che hanno detto che la photographia era in procinto di uccidere la pittura. Pas du tout. Non è affatto così. La photographie a rempli le rôle de représentation du réel. La photographia in effetti a colmato e a svolto il ruolo di rappresentazione du réel. Et elle a permis à la peinture de s'émanciper de cette servitude du réel et ça a donné l'impressionnisme et tout ça. Quindi a consentito la pittura di liberarsi da questa servitude verso il réel et quindi a dato luogo a vari movimenti artistici come l'espressionisme. La rivalità della fotografia ha permis alla peinture di revenir a ce qu'elle avait probabilmente de plus propre de plus specific. Allora la rivalità della fotografia ha consentito alla pittura di giungere a ciò che aveva di più specifico. E ainsi de suite on pourrait multiplier les exemples e così di seguito si potrebbero in altri settori moltiplicare gli esempi. Non ci sono esempi d'un genre culturel più popolare venant tuer un genre culturel antérieur. Di un genere culturale un po' più popolare che giunga fino a uccidere un genere non popolare anteriore. Je me rappelle on connaît tous les texti dell'Ecole di Francfort al momento dell'apparizione del Microsillon par esempio. La musica va essere tuata dal Microsillon. E sono noti le posizioni della scuola di Francfort quando è apparso nella musica il Microsillon. che cos'è il Microsillon? Le disque. Ah sì sì il disque. Je crois che c'è parec la televisione e la stessa cosa con la televisione la televisione ne tue pas la cultura la televisione non uccide la cultura e l'oblige a se definire autrement e l'oblige a remplire una funzione che è sola a pouvoir remplire e l'obbliga a recolmare a svolgere una funzione che essa sola può svolgere. Il y a de plus en plus de... Je penso par exemple che la multiplicazione delle seri televisive la multiplicazione delle serie televisive va de la même manière liberer le cinema de toute une partie de ce qui lui était le moins essentiel et on aura de plus en plus de Bertolucci et de Dernier Empereur etc. E quindi diciamo che questa serie di trasmissioni televisive va fino a liberare quindi il cinema da tutta una serie di obblighi di vincoli rispetto sempre a questa rappresentazione del reale e quindi ci saranno sempre più artisti di qualità lui dice per esempio Bertolucci o altri voilà donc si s'il y a crisi c'è c'è per un'altra ragione c'è l'intellectuale è forse una crisi forse molto più grave che alcuni non credono di quanto alcuni non credono una crisi una crisi a un tempo differente e più grave questa crisi proviene dal fatto che l'intellectuale è è sta per sparire all'orizzonte dunque dei nostri saperi e delle nostre visioni del mondo quindi questo è l'avvenimento principale di oggi per la cultura e vorrei in qualche modo spiegarvi oggi perché la prima cosa che bisogna prendersi conto anzitutto di una prima cosa è che l'intellectuale è un'invenzione è appunto questa l'intellectuale è un'invenzione recente ci sono stati sempre artisti ci sono stati sempre scrittori ci sono stati sempre scrittori ci sono stati certamente sempre pittori ma non è sempre accaduto che ci fossero artisti, scrittori che fossero anche intellettuali non è sempre accaduto che ci fossero artisti o scrittori che a un certo punto del loro lavoro lèvano le loro plume alzano la loro penna interrompono face a face con le loro oeuvre e quindi interrompono le faccia a faccia con la loro opera per prendere posizione sulle grandi questioni della città quindi per prendere posizione sulle grandi questioni della città per le fare e questo per farlo in nome dei valori universali e per essere autorizzati a farlo è proprio ciò che si chiama intellettuale e una cosa di tutto recente che appare in un luogo preciso dell'Europa c'è a dire in Francia a un momento preciso dell'istoria dell'Europa c'è a dire al momento dell'affaire Dreyfus quindi appare questa parola questo termine intellettuale in Europa nelle lingue europee proprio nel 1899 il sostantivo intellettuale non esiste ciò che esiste quindi esisteva è un aggettivo peggiorativo che si trovano appunto per esempio in commedie satiriche ma in un senso sempre peggiorativo e la prima volta in l'istoria dell'Europa in cui dei gens appare è la prima volta che nella storia dell'Europa dove certe persone appagiano e dicono e affermano in modo positivo di maniera a glorificarsene noi siamo intellettuali c'è il manifesto per Dreyfus dopo il loro atto di decesso allora ciò che io credo è che oggi le condizioni di possibilità di questa idea le condizioni di possibilità di questa idea sono in procinto di crollare che cosa avevano in mente gli intellettuali Dreyfusardi che cosa occorreva che avessero in testa per difendere appunto Dreyfus contro la Canagna e anche al di fuori diciamo del caso Dreyfus a che cosa bisogna credere perché appunto ci sia l'intellettuale in primo luogo occorre credere alla ragione bisogna credere alla sua potenza occorre credere che la ragione abbia il potere di dissipare o vincere il delirio o è bene questa ragione con la grande R diciamo non è creduta non si può credere in essa nello stesso modo di prima oggi e quindi se c'è una lezione che possiamo trarre da questo ventesimo secolo se c'è una lezione del fascismo se c'è appunto una lezione dei totalitarismi di tipo sovietico c'è bien che la ragione n'est pas toute puissante è proprio questo che la ragione appunto non è onnipotente tra ragione e perversione non è la ragione a vincere c'è un grande filosofo che lo dì dès 1935 c'è un grande filosofo a dirlo fin dal 1935 ed è appunto Husserl nelle sue due conferenze tanto tristi e tanto amare di Praga e di Vienna comincia già a dire ciò che noi sappiamo oggi e cioè l'onnidebolezza della ragione dinanzi al delirio e alla barbarie perché l'idea dell'intellettuale avesse un senso bisognava credere assolutamente alla giustizia la giustizia in sua la giustizia appunto in sé la giustizia absolu la giustizia assoluta la giustizia di Zola contro Barres Barres l'antidrefusar qu'è ce qu'il disait appunto Barres che è l'antidrefusardo che cosa diceva il disait il n'y a pas une giustizia non c'è una giustizia ci sono molte parecchie giustizia c'è una giustizia per gli giustizia e c'è una giustizia per gli ebrei che vorrebbe qualunque siano il luogo il tempo e la circostanza Barres diceva con molto disprezzo ebbene questa è un'idea intellettuale è vero che è un'idea intellettuale e è vero che questa idea oggi è molto seriamente intaccata perché dunque intaccata è forse uno degli effetti perversi di ciò che si è chiamato negli anni 60 la lutta contro l'imperialismo si è chiamata la lotta contro l'imperialismo rappelez-vous ricordatevi dunque on disait arrêtons avec l'européocentrisme basta con l'européocentrismo arrêtons avec l'arroganza dell'Occident basta con l'arroganza dell'Occidente il n'y a pas de valeur universelle non ci sono valori universali non ci sono valori che valgono per tutti i tempi i luoghi e le circostanze credere che ci siano tali valori è un ultimo riflesso appunto dell'Occidente l'Occidentismo ci sono tanti valori quanto ci sono culture ci sono dunque tante giustizie quante etnie ecco che cosa ci diceva dunque l'area del tempo degli anni 60 e 70 e io credo che c'è a terra di tempo il ha riuscito a entamare l'idea che puissi avere valori universelles quindi l'idea che possano esistere valori universali terzo luogo perché l'intellettuale esista bisognava che gli credesse semplicemente ed è forse questa è la prima condizione di possibilità dell'intellettuale bisognava che credesse nella verità la verità appunto in sé la verità in majestà rappelez-vous le libro di Zola per Dreyfus s'appelait la verità en marche il libro di Zola appunto per Dreyfus si chiamava la verità in cammino questa credenza nella verità era essenziale per un intellettuale un intellettuale che non crede nella verità non può essere un intellettuale or oggi più persone ne croi veramente alla verità ora oggi nessuno più veramente crede nella verità certamente non siamo nell'epoca di Dreyfus non siamo nell'epoca in cui persone come Moras o Barres o a un'altra epoca D'Annunzio o in un'altra epoca D'Annunzio si potevano dire che ci sono verità lorraine e provenzale potevano dire che ci sono verità della Lorena di Dreyfus che ci sono che ci sono